Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore e del nostro nome su Cristo, l'onore di Dio al Padre, e la compiore dello Spirito Santo, sia orato a tutti i mali, fratelli e sorelle, prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristica, che anche per questo motivo può essere, ho visto il diritto d'accedere per la fede di tutti i napoletani in un'ombra del Signore che già sta per aver preso le persone, si è mi dà venire a fare un minacchio. C'è un rumore incredibile del Corazio.